Questo libro in pratica è nato dopo 52 anni di lavoro in Ferrari, mi è venuto l'idea di realizzare questo libro. Questo libro che racconta un po' la storia della fabbrica, la descrizione di quello che è successo a Maranello negli anni all'interno dello stabilimento. Per questo è chiamato Dentro la Scuderia e racconta aneddoti, sviluppi aziendali, qualche personaggio, la produzione e l'evoluzione della produzione negli anni, in pratica una sintesi di tutto quello che è successo da quando è nata la Ferrari Modern negli ultimi 79 anni di Ferrari. Grazie 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 Grazie